Quando qualcuno osò dire che la Terra era rotonda in base ai calcoli che fece, e dietro del pazzo, del folle, lo immaginarono, e poi sappiamo come andò a finire la Terra rotonda. E se oggi qualcuno dicesse che la Terra è controllata da un super computer che decide anche i nostri destini, cosa direbbero di lui, anche se ciò è basato su calcoli derivati dal fatto che gli uomini soffrono continuamente, nonostante Dio che è amore infinito, che perdona, e gli angeli che ci proteggono, non ci farebbero mai del male, ma solo e unicamente una mente artificiale, come quella di un computer, può provocarci, causarci tutto il dolore, la sofferenza atroce che noi, il mondo, subisce continuamente. Ovviamente poi questo fatto darebbe risposte a tutte le nostre domande, soprattutto perché siamo costretti a soffrire. e quindi